Buon povericcio amici all'ascolto, clima ideale per un match di calcio, il sole sopra lo stadio, tutti gli ingredienti per un grande match. Benvenuti al match di oggi che promette davvero grande spettacolo e che commenterò come sempre con Stefano Nava. Si annuncia una partita di grande livello. Ah beh Pier, oggi ho proprio voglia di divertirmi, scommetto anche chi ci ascolta. Le scelte del tecnico e dei padroni di casa per questa sfida. Hanno deciso di andare sul sicuro optando per il più classico dei 4-4-2. Modulo che non passa mai di moda, un evergreen Pierre che garantisce equilibrio in ogni zona del campo. Pedrassa, Kennedy. C'è il triangolo. Posizione buona per il cross. Grande intervento, quasi come un gol. Prova l'imbucata immobile. C'è Chiesa tutto solo. Ecco il gol dell'1-0. La sbloccano subito. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato la perfezione, il passaggio all'indietro del compagno. Ripartenza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione, la chance che gli è capitata. Bravo. Palla a gol questa. 1-2 vicidiale nel giro di pochi minuti. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito di fatto il gol. Ha finalizzato la perfezione, un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Riconquista il pallone con un buon tackle. Akhimi. Guarda il movimento in area. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Perdono qui il possesso di palla. Pedrassa. Spazio a disposizione per i Black Cuts. Può riaprirla qui. Efficace l'intervento del portiere che salva. L'azione non è ancora finita. Dice di no con questo intervento. Occhio al corner. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura. L'attaccante era già pronto a esultare. Chiesa. Prova a servire il compagno sul secondo palo. Ma che gol ha fatto? Non ci ha pensato due volte. Ha pulmirato alla grata il portiere. Questo è il replay del gol. Una ribattenza perfetta. È arrivato come un treno sul pallone. Non ha avuto problemi a metterla dentro. Ora conducono per tre reti a zero. Con il numero 23, Niccolò Baralla. Hilton. Occhio al tiki-taka prolungato. Buono l'1-2. L'avanzata dei Blackhats. Lo vede. Pallone invitante. Palla schizza via dopo il contrasto. Tonali. Mette palla in profondità per il compagno. Ottima la verticalizzazione. Palla che attraversa tutta l'area senza che nessuno possa intervenire. Palla recuperata dagli avversari. Kennedy. Ottimo il De Valle. Ansaldi. Tonali. Occhio a questo pallone filtrante. Passaggio che trova bei il compagno. Ottima posizione. Segnano ancora. Davvero straordinari. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato bene l'assist all'indietro del compagno. Hanno poi finalizzato la perfezione. Questo due contro uno. Niente da fare per il portiere. Partita che sembra già decisa. E siamo ancora nel primo tempo. Palla morbida a scavalcare la difesa. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Buona triangolazione. Potrebbe crossare. Attenzione perché è pericoloso. Palla pericolosa. Bravissimo qui. Possono ripartire in contropiede. Occasione. Ne ha già fatti due. Questa poteva essere la tripletta. Magari avrà altre occasioni per riprovarci. Non deve abbattersi. Ancora un passaggio perfetto. Brutto ballone perso dai Black Cuts. Quarto uomo segnala. Un minuto di recupero. Occhio a Cristiano. Decisivo l'intervento qui. Arriva il fischio finale dell'arbitro in questo primo tempo. Ripresa cominciata con i Black Cuts costretti a rincorrere. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Buona lettura da parte di Barella. Barella. Cristiano Ronaldo col pallone. Cerca di bucare per il compagno. Attenzione immobile. Lanciato. È la sua terza rete oggi. Attrick. Tre gol per confermare il suo stato di grazia. Sta facendo letteralmente a mattiera la difesa. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. La squadra di casa con il numero sette Cristiano Ronaldo. Ballone che torna in possesso degli avversari. squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forze fresche. Buona lettura dell'azione. Ha intercettato bene il passaggio. Attenzione alla CR7. Sbaglia Cristiano Ronaldo qui. Ottimo intervento. Senza fronzoli. Pedrassa. Kennedy. Lo stesso palla recuperato. Cristiano Ronaldo. Kennedy. Palla recuperata in zona d'attacco. Attenzione. Immobile. Ci sono metri per andare. Sono scoperti dietro. Attenzione. Può segnare da lì. Grande intervento del difensore che risolve. Un ringraziamento speciale ai tanti. Gran pallone di Cristiano. Può far male qui. Attenzione. Occasione. È rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara. Anche a me è sembrato che fosse completamente fuori tempo. Poi l'arbitro era vicino all'azione. Non mi pare ci siano dubbi su questa decisione. Beh, ma qui secondo me oltre al rigore ci stava sicuramente anche il cartellino. Che ne pensi? Non c'è dubbio. Ha commesso un fallo molto duro. Forse concedere soltanto il rigore non era abbastanza. La parata sul rigore di Cristiano. Crossa nel mezzo. Non corre rischi. Sceglie i pugni. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Immobile. Hakimi. Serve Cristiano Ronaldo. Si libera la grande. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Hanno verticalizzato la perfezione in occasione del gol. Stagliano in due la difesa con questo lancio filtrante. Ripartezza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere. E non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione, la chance che gli è capitata. Bravo. Palla recuperata dagli avversari. Attenzione immobile. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. si ripartirà con una rimessa laterale. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Ottimo impressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Occhio al cross. Cristiano. Pallone profondo, pericoloso. sfiora il palo con questo tiro a giro. Poco fortunato direi l'attaccante. Ha provato a piazzarla. Sarebbe stato un gol da antologia. Vantaggio che si spiega anche col dato sui tiri in potta. Hanno concluso ripetutamente a rete. Provando in più occasioni il gol. E non sembrano ancora accontentarsi. Continuano a spingere. All'interessante dello spazio. Che chance clamorosa. Deve solo piazzarla. L'arbitro indica il dischetto. Sarà ancora una volta a calcio di rigore. L'allenatore non può prenderla bene. Sono ingenuità che costano carissime. L'arbitro è stato clemente in questa occasione. Cristiano Ronaldo. Perfetto dal dischetto. E la regia torna sul rigore di prima. Induge giustamente sulla grande personalità e sangue freddo. Che ha dimostrato il giocatore anche ai migliori. Può capitare che tremino le gambe. Ma lui no! Ancora 600 secondi alla fine. Ma non è perso. Interviene e sventa il pericolo. Spazio a disposizione per il Black Cats. Chiesa. Cristiano Ronaldo col pallone. Perde palla Ronaldo. Kennedy. L'appoggia di nuovo al compagno. Palla consegnata agli avversari. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. E' un finale questo che difficilmente riserverà sorprese. Visto lo squilibrio delle due squadre in campo. Può metterla in mezzo. Tagliala in mezzo. Varella. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Partono in contropiede. Quarto uomo esibisce il tabellone. Due minuti di recupero. Gran pallone di Cristiano. Attacco che svanisce. C'è il segnale di chiusura. Tre punti importanti davanti al proprio pubblico. Hanno fatto meno fatica del previsto ad imporsi contro una squadra passata. Grazie a tutti. 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 Il pallone filtrante. E questo pallone filtrante. Grande intervento del difensore in area. Comoda uscita del portiere. Un altro ottimo tocco. Janske. Kalinic. Palla che esce. Tush, rimessa laterale Cristiano perde palla a Ronaldo errore banale questo dei Commerz si andrà avanti per un altro minuto qui a bordo campo tutti pensavano occasione è arrivata la grippetta per l'aria Pierre come stava giocando difesa chiaramente in difficoltà non mi stupirei se ne facesse degli altri replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito di fatto il gol ripartenza micidiale l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato ha sfruttato la perfezione la chance che gli è capitata bravo si chiude qui il primo tempo l'arbitro dà il via alla seconda metà della gara perfetto oggi nei passaggi la magia per saltare l'avversario imprevedibile lo stesso palla recuperato Akhimi c'è spazio davanti a sé palla ancora in gioco barella occhio al tocco interessante intervento provvidenziale del difensore ha evitato un gol fatto occhio al tocco in mezzo colpo di testa alto di un soffio sopra la traversa l'aveva colpita bene ha esagerato leggermente con la mira non riescono a tenerla possesso del pallone ancora per i Comez provano a aprire la scatola difensiva avversaria cross invitante ma il pallone viene controllato dalla difesa conclusione che è uscita davvero di poco doveva fare meglio da lì la palla non ha girato come si aspettava Ciro immobile a sfaccio per andare occhio attenzione ecco il gol e questo è un gol che merita di essere rivisto da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio all'indietro del compagno hanno poi sfruttato al meglio questo due contro uno vadificando l'intervento del portiere Ginzek Ginzek interviene proprio all'ultimo e salva occhio al contropiede a metri per andare occhio al pallone giusto gol giunto al termine del contropiede perfetto avevano l'occasione